Con questo tutorial vediamo delle scomposizioni di repilogo. Partiamo da questo primo esempio. Allora, qui la prima cosa che vado a fare è un raccoglimento totale mettendo in evidenza una y. Apro la tonda e scrivo y alla seconda meno 2y meno 15 e chiudo la tonda. Ora la quantità all'interno della parentesi può essere scomposta perché è un trinomio caratteristico. Devo trovare due numeri che moltiplicati danno meno 15 e sommati danno meno 2. E i numeri sono meno 5 e 3. Allora vado a scrivere y che moltiplica y meno 5 per y più 3. Vediamo quest'altro esempio. Allora, qui posso mettere in evidenza un 3x e vado a scrivere 3x. Apro la tonda. Allora, 243 diviso 3 fa 81. Poi meno 54 diviso 3 è 18 e scrivo 18y alla seconda e poi più y alla quarta. Mi rendo conto che questa quantità è un quadrato di binomio. è y alla seconda meno 9 al quadrato. E allora vado a scrivere 3x che moltiplica y alla seconda meno 9 al quadrato. Devo andare ancora avanti perché questa quantità la posso scomporre per differenza di quadrati. E allora vado a scrivere 3x che moltiplica y meno 3 per y più 3 e poi vado a distribuire questa potenza e quindi metto alla seconda alla seconda. Vediamo quest'altro caso. Allora posso fare un raccoglimento parziale. Qui vado a mettere in evidenza un meno 9 e qui vado a mettere in evidenza x alla quarta. E allora ottengo meno 9 che moltiplica a meno b. Poi più x alla quarta che moltiplica a meno b. Ora posso fare il raccoglimento totale perché queste due quantità sono uguali. E allora vado a scrivere a meno b che moltiplica x alla quarta meno 9. Devo andare ancora avanti perché questa quantità la posso scomporre per differenza di quadrati. E allora vado a scrivere a meno b che moltiplica x alla seconda meno 3 per x alla seconda più 3. Vediamo quest'altro caso. Allora qui posso fare un raccoglimento totale e mettere in evidenza di certo x quadro e poi anche y. E allora vado a scrivere x quadro y che moltiplica z alla seconda più 15 più 8z. Questa quantità la posso scomporre perché è un trinomio caratteristico. Devo trovare due numeri che moltiplicati danno 15 e sommati danno 8. E i numeri sono 5 e 3. E allora vado a scrivere x alla seconda y che moltiplica z più 3 per z più 5. Vediamo quest'altro esempio. Allora questo è un quadrato di binomio perché è una quantità al quadrato, il doppio prodotto e questo è l'altro quadrato. Allora posso andare a scrivere x alla seconda più a più 1 al quadrato. Vediamo questi altri esempi. parto da questo e posso andare a fare subito un raccoglimento totale. Metto in evidenza un 5. Apro la tonda. y alla quarta meno 7y alla seconda più 10. Ora questa quantità la posso scomporre perché la posso pensare come trinomio caratteristico, cioè trovare due numeri che moltiplicati danno 10 e sommati danno meno 7. E i due numeri sono meno 2 e meno 5. Allora vado a scrivere 5 che moltiplica y alla seconda meno 2 per y alla seconda meno 5. Vediamo quest'altro caso. Allora qui la prima cosa che vado a fare è un raccoglimento totale e metto in evidenza x alla terza e scrivo x alla terza a protonda x alla terza meno 6x alla seconda più 12x meno 8. Questa quantità è un cubo di binomio, esattamente deriva da x meno 2 al cubo. Allora posso scrivere x alla terza che moltiplica x meno 2 al cubo. Vediamo quest'altro esempio. Allora qui posso fare un raccoglimento totale e mettere in evidenza un 5, un a e un y quadro. Apro la tonda. Allora quello che mi resta è x quadro meno 9x più 8. A questo punto posso scomporre questa quantità perché è un primario caratteristico. Devo trovare due numeri che moltiplicati danno 8 e sommati danno meno 9. E i numeri sono meno 1 e meno 8. Allora vado a scrivere 5 a y quadro che moltiplica x meno 1 per x meno 8. Vediamo quest'altro esempio. Allora questo polinomio lo posso scomporre per differenza di cubi perché questa quantità x meno y posso immaginarla come una a, ossia andare a riscrivere 1 più a al cubo dove questa a vale proprio x meno y. Ora questa quantità è una somma di cubi e la vado a scomporre come 1 più a che moltiplica 1 meno a più a alla seconda. A questo punto, al posto di questa a, questa a e questa a, vado a risostituire x meno y ed ottengo 1 più x meno y che moltiplica 1, poi ho meno a e quindi vado a scrivere meno x più y e poi più a al quadrato, quindi vado a scrivere più x meno y al quadrato e chiudo tonda. Vediamo quest'altro esempio. Allora posso fare un raccoglimento totale e mettere in evidenza un 3a alla seconda b e quello che ottengo è a alla seconda più 7a più 6. Questa quantità la posso scomporre perché è un trinomio caratteristico, quindi devo trovare due numeri che moltiplicati danno 6 e sommati danno 7 e allora vado a scrivere 3a alla seconda b che moltiplica a più 1 per a più 6. Vediamo questi altri esempi. Allora parto da questo e posso fare un raccoglimento totale mettendo in evidenza un a. Apro la tonda ed ottengo y alla seconda meno 3by più 2b al quadrato e chiudo la tonda. A questo punto questa quantità la posso scomporre come trinomio caratteristico, cioè devo trovare due numeri che moltiplicati danno 2b alla seconda e sommati mi danno un meno 3b. I numeri sono meno 2b e meno b. A questo punto vado a scrivere a che moltiplica y meno 2b che moltiplica y meno b. Vediamo quest'altro esempio. Allora questa quantità può essere scomposta come trinomio caratteristico e allora devo andare a trovare due numeri che moltiplicati danno meno 12 e sommati danno meno 1 e i numeri sono meno 4 e 3. E allora vado a scrivere x alla seconda meno 4 per x alla seconda più 3. Devo andare ancora avanti perché questa quantità la scompongo per differenza di quadrati e vado a scrivere x meno 2 per x più 2 per x alla seconda più 3. Vediamo quest'altro esempio. Allora vado a fare un raccoglimento totale e metto un'evidenza b ed ottengo y all'ottava meno y alla quarta meno 2. Questa quantità la scompongo perché è un trinomio caratteristico quindi devo trovare due numeri che moltiplicati danno meno 2 e sommati danno meno 1. E i numeri sono meno 2 e 1 e allora vado a scrivere b che moltiplica y alla quarta meno 2 per y alla quarta più 1. Vediamo quest'altro esempio. Allora questo esercizio è abbastanza difficile e va fatto con il teorema di Ruffini. Quindi vado in una nuova pagina e vediamo tutti i vari passaggi. Ho riscritto il polinomio che dobbiamo fattorizzare in maniera ordinata. Osservo pure che questo polinomio è completo. Allora applico il teorema di Ruffini. Allora devo andare a determinare i divisori del termine noto, cioè di meno 6 e questi sono i suoi divisori. Vado a determinare uno 0 del polinomio. Provare per credere che meno 1 è proprio uno 0 del polinomio. Infatti se andiamo a sostituire qui al posto della x meno 1 otteniamo proprio 0. Questo significa che per il teorema di Ruffini x più 1 è un fattore di questo polinomio. Per determinare il resto dobbiamo fare questa divisione per x più 1. Qui ho già effettuato la divisione ed ottengo come quaziente questa quantità. Siccome che ottengo un quaziente di grado maggiore a 1, allora devo riapplicare di nuovo il teorema di Ruffini. Ho scritto q di x questa quantità, cioè questo quaziente, e riapplico di nuovo il teorema di Ruffini, cioè devo andare a determinare i divisori del termine noto e poi andare a cercare uno 0 di q di x. Per x uguale a 2 si ottiene 0. Questo significa che questo polinomio ammette come fattore x meno 2. Per determinare gli altri fattori basta fare la divisione di questo per questo ed otteniamo x alla seconda più 3x quadro più x più 3. Anche in questo caso ottengo un quaziente di grado maggiore a 1, quindi dovrei riapplicare di nuovo il teorema di Ruffini, ma mi rendo conto che in questo caso posso applicare un raccoglimento parziale. Ho scritto questo polinomio qui ed ho applicato il raccoglimento parziale e quindi lo vado a scrivere come x quadro più 1 per x più 3. Allora significa che il polinomio iniziale è fattorizzabile e questi sono i suoi fattori. Vediamo questo altro esempio. Allora qui posso applicare subito un raccoglimento parziale e mettere in evidenza qui x quadro e qui meno 1. Allora vado a scrivere x quadro che moltiplica 5x più 3 meno 1 che moltiplica 5x più 3. A questo punto faccio un raccoglimento totale, metto in evidenza 5x più 3 per quello che resta, ossia x quadro meno 1. Devo andare avanti perché questa quantità la posso ancora fattorizzare per differenza di quadrati e vado a scrivere 5x più 3 che moltiplica x meno 1 per x più 1. Vediamo questi ultimi esempi. Parto da questo esercizio. Fisso l'attenzione su x alla quarta meno 6 e x alla seconda e poi vado a considerare meno x alla terza meno 3x. Lo vado a ricopiare in maniera ordinata. x alla quarta più x alla seconda meno 6 e poi meno x alla terza meno 3x. In poche parole ho scritto prima tutti i termini in rosso e poi tutti i termini in blu. Mi rendo conto che questa quantità è un trinomio caratteristico, cioè devo trovare due numeri che moltiplicati danno meno 6 e sommati danno 1 e i numeri sono 3 e meno 2. Allora vado a scrivere x alla seconda più 3 per x alla seconda meno 2. Qui invece vado a mettere in evidenza meno x e scrivo meno x a protonda x alla seconda più 3. A questo punto posso fare un raccoglimento totale perché qui ho x alla seconda più 3 e qui x alla seconda più 3 e vado a scrivere x alla seconda più 3 che moltiplica x alla seconda, poi vado a scrivere meno x meno 2. Posso andare avanti perché questa quantità è un trinomio caratteristico, cioè riesco a trovare due numeri che moltiplicati danno meno 2 e sommati danno meno 1. Allora vado a scrivere x alla seconda più 3 che moltiplica x meno 2 per x più 1. Osservo che, se non mi fossi accorto di questa proprietà, avrei dovuto scomporre questo polinomio utilizzando il teorema di Ruffini. Vediamo quest'altro esempio. Allora posso fare un raccoglimento totale e mettere in evidenza x quadro e vado a riscrivere x alla terza più 9x alla seconda più 27x più 27. Questa quantità non è nient'altro che un cubo di binomio e allora vado a scrivere x alla seconda che moltiplica x più 3 al cubo. Vediamo quest'altro esempio. Allora la prima cosa che faccio è andare a mettere in evidenza un a e poi scrivo a alla terza meno a più 24. A questo punto devo applicare il teorema di Ruffini per capire se posso fattorizzare questo polinomio. Ho riscritto il polinomio p di a alla terza meno a più 24 e vado a determinare i divisori del termine noto di 24 e sono questi. A questo punto devo andare a cercare lo 0 di p di a. Provare per credere che se al posto di a vado a mettere meno 3 ottengo proprio 0. Da questo deduco che meno 3 è uno 0 del polinomio. Quindi per il teorema di Ruffini questo polinomio ammette a più 3 come fattore. Ora devo andare a fare la divisione di questo polinomio per a più 3. Vado a riscrivere il polinomio in maniera ordinata e completa e quindi devo aggiungere 0 a quadro ed effettuo la divisione. Ottengo questo come cossiente. Allora p di a lo posso andare a scrivere come a più 3 per alla seconda meno 3a più 8. In teoria qui dovrei andare avanti e riapplicare di nuovo il teorema di Ruffini, ma si può verificare che questo polinomio non ammette zeri, quindi è un polinomio riducibile. Tornando all'esercizio iniziale, allora questa risulta la sua fattorizzazione. Vediamo questo altro esempio. Allora qui posso fare un raccoglimento parziale mettendo in evidenza qui x quadro e qui meno 9a quadro ed ottengo x quadro che moltiplica x meno 1 meno 9a quadro che moltiplica x meno 1. A questo punto metto in evidenza x meno 1 che moltiplica x quadro meno 9a quadro. Devo andare avanti perché questa quantità la posso scomporre per differenza di quadrati e allora vado a scrivere x meno 1 che moltiplica x meno 3a per x più 3a. Vediamo questo ultimo esempio e anche questo esercizio deve essere scomposto attraverso il teorema di Ruffini. Ho riscritto il polinomio in forma ordinata e vado a determinare i divisori del termine noto, cioè di 3, e sono più o meno 1 e più o meno 3. Al posto dell'a, se vado a mettere meno 1, ottengo 0, quindi significa che meno 1 è uno 0 del polinomio. Allora per il teorema di Ruffini sappiamo che a più 1 è un fattore di questo polinomio. A questo punto facciamo la divisione del polinomio, scritto in forma ordinata e anche completa, per a più 1 ed otteniamo come quaziente questa quantità. Dobbiamo riapplicare a questo punto di nuovo il teorema di Ruffini, quindi riscrivo il polinomio e vado a determinare i divisori del termine noto, cioè di 3. Se al posto di a andiamo a sostituire 1, otteniamo 0, quindi significa che 1 è uno 0 di q di a, e allora a meno 1 è un fattore di questo polinomio, e allora sarà anche un fattore del polinomio iniziale. Andiamo a fare la divisione di questo per a meno 1 e otteniamo questo come quaziente. Essendo questo quaziente di terzo grado, dobbiamo riapplicare di nuovo il teorema di Ruffini. Ho riscritto qui il quaziente dell'ultima divisione, che era a alla terza più 2a meno 3. Riapplico il teorema di Ruffini e per a uguale 1 si ottiene 0, quindi significa che a meno 1 è un fattore di r di a, allora sarà un fattore anche di p di a. Essendoci qui già un a meno 1, aggiungendo un altro meno 1, mi diventa a meno 1 alla seconda. Ora vado a fare la divisione di questo polinomio scritto in forma ordinata e completa, quindi devo aggiungere 0 a quadro, per a meno 1, cioè per questa quantità. Io ottengo a alla seconda più a più 3 come quaziente. In teoria dovrei andare avanti, ma si può dimostrare che questo polinomio è un polinomio irriducibile. Allora l'ultimo fattore sarà a alla seconda più a più 3. E con questo esempio termino questo tutorial sulle scomposizioni di riepilogo.